Direttore, le associazioni di categorie e sindacati chiedono alla Regione di fare presto per quanto concerne i ristori, c'è la zona rossa, alcune attività sono chiuse, altre sono aperte ma lavorano a regime ridotto, non si può più perdere tempo. No, infatti abbiamo intitolato questo nostro comunicato fare presto proprio perché questa è l'emergenza vera. In una situazione così complicata con la zona rossa, come diceva lei, che ha chiuso tante attività, limita molto la mobilità dei cittadini, il problema dei ristori è un problema centrale. La Regione ha messo a disposizione risorse importanti con cura Abruzzo 1 e 2, quasi 150 milioni, ne ha aggiunte 30, ma il problema è che è arrivato meno del 20% alle imprese. Allora questo non è tollerabile, soprattutto in un momento di così grave sofferenza. Un momento difficile anche perché si avvicina il Natale, il periodo clou dell'anno per molte aziende, per molti negozi esercenti, ma quali sono le prospettive in questo momento? Io voglio essere ottimista perché altrimenti qui con tutte queste notizie negative davvero l'economia va a rotoli. Tenendo sempre presente che la salute è al primo posto, noi ci auguriamo che dal 3 di dicembre, dovrebbe finire il periodo di zona rossa, si possa riprendere con una certa gradualità a fare una vita normale. Noi lo stiamo dicendo da tempo. Noi dobbiamo combattere il virus, mettere le risorse per potenziare la sanità, gli ospedali. Qui è stato fatto poco in Abruzzo e quindi ci auguriamo che il Natale, che è il periodo in cui le imprese, soprattutto quelle del commercio, turismo, l'artigianato, hanno i fatturati più importanti, possa essere salvato. Ripeto, con tutte le salvaguardie necessarie. Tra qualche settimana si chiuderà un 2020 terribile per le aziende in generale, al di là anche dell'emergenza sanitaria? Sì, questo è stato un anno difficilissimo, però dobbiamo imparare qualcosa. C'è stato un aumento stratosferico, per esempio, del commercio elettronico. Non possiamo più lasciare solo ad Amazon e a questi grandi player in mano questo mercato. Dobbiamo organizzarci, dobbiamo capire che la microimpresa, la piccola impresa, che è l'ossatura dell'Italia, deve però cambiare passo anch'essa. Dobbiamo usare di più il digitale, dobbiamo organizzarci, dobbiamo fare filiere ottimali e in questo modo possiamo dare ai nostri clienti un servizio e prodotti di maggiore qualità. Io credo che potremo guardare con ottimismo al 2021 se l'Italia saprà accogliere anche queste straordinarie opportunità dei fondi comunitari. Non va sprecato un euro di questi. Quindi ci vuole velocità, risorse e semplificazione.